E questa è l'ora solare, ovvero tutto quello che voi vedete, tutto quello che avete la grazia di seguire con noi e insieme a noi, dandoci la forza quotidiana di andare a cercare le storie dal 15 ottobre scorso. La storia di Giuditta Boscagli, benvenuta, ben arrivata. È una storia d'amore che Giuditta definisce una grazia ricevuta dal Signore. Allora, una storia che ha completamente cambiato la sua vita e non solo la sua, Giuditta, esattamente nel momento in cui c'era più bisogno che tutto questo accadesse. Sì, io ho conosciuto mio marito nell'estate del 2010, un'estate che per me è stata molto provocante dal punto di vista proprio di capire quale fosse la mia strada, perché avevo 28 anni, tantissimi miei amici o si erano sposati o avevano scelto altre forme di vita e io mi sentivo sempre un po' ferma al palo. Mi sembrava che le cose accadessero agli altri e che invece a me non succedesse di capire quale era la strada per me. Perché lei aveva voglia di famiglia. Sì. Che non è voglia una famiglia così? Cioè, la famiglia è un progetto importantissimo, no? Quindi vanno costruito con fondamenta molto robuste. Sì. Che cosa accade? Accade che quell'estate io sento questo desiderio proprio esplodere, ma non essendo fidanzata, costruire una famiglia diventava abbastanza difficile. Per cui parto per una vacanza insieme a famiglie di miei amici e questo desiderio proprio esplode in maniera grandissima e a fine estate vado per tre giorni al meeting di Rimini accompagnando dei ragazzi delle scuole superiori, per cui pensando di fare tre giorni di mostre, di incontri a un appuntamento a cui io tenevo molto da sempre. Perché il meeting di Rimini è quel grande, grande appuntamento che mette insieme tutte le storie possibili, le persone e c'è questo clima dove tutti sono coordinati con gli altri, anche chi non si conosce. E lei incontra? Io lì ho incontrato quello che oggi è mio marito, ma l'ho incontrato in un contesto decisamente inusuale, perché quando sono arrivata nella grande fiera di Rimini ho chiamato un amico che io avevo conosciuto perché era venuto a fare una testimonianza a quegli stessi ragazzi che io accompagnavo e lui era ergastolano, era rinchiuso in carcere e mi ha presentato tra gli altri questo ragazzo bellissimo che immediatamente mi ha colpito e che sono bastati pochi minuti per capire in realtà che come lui era detenuto, ma neanche per un istante la sua condizione poteva cancellare quegli occhi buoni che io avevo davanti. Per cui io sono stata a Rimini pochissimo tempo perché sono stata a 48 ore, ci siamo visti tre volte nel giro di 48 dottore e poi io sono ripartita verso casa, ma sia per me che per lui era come se fosse stato piantato un seme che non sapevo come sarebbe cresciuto, ma che era stato piantato. Allora lei capisce che presentato da un amico, da questo ragazzo, da quest'uomo che scontava un ergastolo, anche suo marito fosse un uomo che lei tornava a casa e lui sarebbe ritornato al carcere o comunque stava scontando una pena che oggi è stata completamente scontata. ed è vero che a volte gli occhi incrociando, guardando un altro paio d'occhi si sovrappongono due destini. Però da qui ad arrivare al matrimonio, da qui anche e soprattutto perché questa è la domanda a Giuditta che non ci si stanca di farle e lei lo sa e quindi passa anche da noi e anche noi gliela facciamo questa domanda, noi tutti. Come si convince il mondo che gira intorno a te che tu ti sei innamorato di un uomo che vive in carcere perché ha commesso una colpa e sta scontando una pena, una pena di vent'anni, una pena importante, lunga. Come è riuscita lei a fare tutto questo? In realtà noi di grandi obiezioni o di grandi pregiudizi grazie al cielo non ne abbiamo incontrati. Certo il grande scoglio è stato per chi voleva bene a me e non conosceva lui, per cui i miei genitori, i miei amici. Inizialmente non è una notizia semplice da digerire e soprattutto la preoccupazione può esserci ed è giusto che ci sia perché comunque il carcere non è un bel posto e lui non era finito in carcere per sbaglio. Quello che ha convinto certamente più di tutti i miei genitori è stato il fatto che io ero sempre più felice, facevo le stesse cose che facevo prima di incontrare lui ma con un'intensità e un gusto che sarebbero stati impossibili prima dell'incontro con mio marito. Allora, Pietro, così si chiama suo marito, vi vedete a Rimini e poi che cosa tecnicamente, le chiedo tecnicamente, insomma c'era anche una distanza chilometrica, c'era, c'è il non dormire più, va bene, ci sono le farfalle nello stomaco, c'è lui sì, perché? Perché sì? Perché... E come siete riusciti a rincontrarvi, a rivedervi, insomma, come facevate? Allora, tecnicamente lui alla fine di quella settimana di agosto è rientrato in carcere ed era ancora in un regime di chiusura per cui non potevo sentirlo al telefono, non potevo vederlo. Abbiamo iniziato a scriverci delle lettere, per cui carta, penna, busto e francobollo, tempi delle... Alla vecchia maniera. Esatto, della corrispondenza, ma per me sono state veramente una grazia gigantesca quelle lettere perché il fatto di non poterlo sentire, lui è uscito in permesso altre due volte a settembre, poi ci sono stati 79 giorni dalla fine di settembre a metà dicembre in cui io non l'ho più sentito neanche al telefono. Sono stati 79 giorni di grazia perché lì ho dovuto per forza star davanti al fatto che non me l'ero dato io, che lui era dono di un altro e che questo dono poteva solo essere custodito da chi me lo aveva donato. C'era proprio da rimettere tutto nelle mani di Dio ed è stata anche la stessa cosa che io ho scritto a mio papà perché dopo quattro mesi di questa conoscenza io ho detto ai miei genitori cosa stava succedendo anche se se ne erano già accorti, non c'era bisogno di diglielo. E quando ho detto a mio papà che io mi ero innamorata di un detenuto la cosa che sapevo gli avrebbe fatto fare fatica era la preoccupazione ma allo stesso tempo per me era evidente che la mia strada cioè il mio rapporto con Gesù passava attraverso quel volto lì e quindi non potevo andare da un'altra parte. Tutta la fatica, la lontananza, il fatto che l'avrei magari rivisto a fine dicembre e poi ogni 60 giorni perché questi erano i ritmi inizialmente non era per niente obiezione rispetto alla gratitudine e al gusto che io avevo della mia vita da quando l'avevo incontrato. Cioè la sua vita dopo questo incontro ha cominciato a diventare una vita costruttiva cioè c'era un obiettivo, no? Sì, era ancora più bella di prima. Io ho avuto la grazia di avere una vita bella sempre ma quando ho incontrato mio marito veramente tutte le cose hanno iniziato ad avere un gusto prima per me è impensabile. Pietro che cosa le diceva? Tante cose, nel senso che lui aveva una domanda grandissima quando noi ci siamo incontrati lui era la seconda volta che usciva dal carcere dopo diversi anni di detenzione per cui aveva una domanda grandissima anche sul perché a lui questa seconda possibilità perché non a tutti è data io lo penso spesso quando i miei suoceri l'hanno sentito condannare neanche nelle più rose e previsioni avrebbero potuto pensare che lui uscisse vestito da sposo da quel carcere e invece quella seconda possibilità è il motivo per cui sono qui oggi, ho scritto un libro con la nostra storia perché la grazia che è stata data a lui io ho subito avuto la percezione che fosse per tutti, per il mondo intero io non lo so perché è proprio lui e non un altro ma so per certo che quello che è successo a noi non potevamo tenerlo solo per noi era troppo grande, era troppo bello Allora, questo è il libro Giuditta Boscagli, Il cuore oltre le sbarre le domande sono tante perché ce ne sono tante le domande da fare su una storia così bella e così speciale però ci interrompiamo solo per un attimo perché il nostro Giorgio Brancia è andato al carcere di opera siamo a Milano ci sono detenuti che stanno scontando la pena per il reato di omicidio e lavorano nel laboratorio dove si costruiscono le ostie le ostie, quelle della messa quelle che noi andiamo a prendere quando facciamo la comunione guardate è come se io sia in basso e ogni ostia che io produco per me è un millimetro che io vado verso l'alto e quindi ogni giorno mi gratifica questa cosa e mi riscatto sempre in più mi trovo qui per un errore commesso da ragazzo per dimostrare a qualcuno che anche io avevo il coraggio di commettere determinate azioni mi sono ritrovato in questi luoghi portando sulla coscienza una persona sono qui per omicidio sono anch'io per omicidio è stato un errore che ho commesso da giovane molto più giovane di quanto sono adesso che mi ha portato quindi sulla strada del carcere sono 22 anni che sono qui io ero finito in un labirinto che non c'era via di uscita siamo nel laboratorio di produzione di ostie nel carcere di opera che è stato ideato e viene promosso dalla fondazione casa dello spirito delle arti l'idea è quella appunto che persone che hanno commesso dei gravi crimini come l'omicidio ma che hanno fatto un percorso di autentica consapevolezza possano fare con le loro mani che appunto hanno commesso nel loro passato un grave delitto le ostie che poi andranno nelle mani dei sacerdoti quindi andranno a essere consacrate e diventeranno Cristo la presenza c'è stato un periodo in cui io mi sentivo proprio perso e ho cominciato a pregare ed è stato proprio come la risposta a tutte le mie domande che io facevo chiedevo io a Dio fammi lavorare per te fammi fare un qualcosa per farmi rimediare a ciò che ho commesso e così esce fuori questo corso e fra 1500 detenuti sono stato scelto proprio io per me questo è un segno, è proprio una risposta ma il massimo per me cioè io chiedo di lavorare per te e cosa più di questa potevo fare io io credo che la redenzione sia possibile se c'è un'autentica conversione se pensiamo a tanti grandi personaggi santi nella storia che prima avevano commesso dei crimini, San Paolo aveva ucciso e perseguitato i cristiani poi c'è stato un incontro col Cristo, ecco solo se c'è vero, l'autentico incontro col Cristo allora si può parlare di cambiamento, allora l'uomo può ritrovare la sua anima ecco in questo laboratorio si prova e ci siamo riusciti in alcuni casi a vedere come l'essere umano può cambiare e vedere come torna la luce negli occhi e questo è una delle cose più belle che si possa vedere, si possa osservare vedere da vicino giuditta Pietro ha lavorato in carcere, ha visto questi uomini che mettono tutto ciò che loro sono al servizio della fede e del lavoro anche per lui il lavoro è stato sicuramente un momento importante per lui e per tanti altri nostri amici che erano detenuti come lui perché vuol dire anche ritornare a scoprire che si può essere utili che non è una vita sprecata allora quando era dentro il carcere le pen drive per la firma digitale mentre quando è uscito lavorava come operatore ecologico in giro per la città per cui anche come dire questo servizio di utilità pratica sicuramente aiuta a vedere subito i frutti del proprio lavoro 11 agosto 2011 Pietro inizia la semilibertà grazie all'applicazione dell'articolo 21 24 febbraio è una data indimenticabile per giuditta e per Pietro del 2014 dopo una detenzione di 11 anni due mesi e 22 giorni per una pena scontata perché bisognava scontare quella pena perché perché bisogna mettersi di fronte alla sofferenza provocata ad altri e quindi bisogna scontare la propria pena davanti alla legge e davanti agli uomini a lei è arrivato un messaggio sul telefono sì il messaggio è arrivato a gennaio dicendo che ci sarebbe stata la camera di consiglio che era l'appuntamento che noi stavamo aspettando perché lui essendo sempre stato in buona condotta avendo usufruito di tutti i permessi la semilibertà rispettando sempre le regole aveva tutte le carte in regola per venire a casa per cui il 19 febbraio gli hanno fatto la camera di consiglio e i giorni passavano non arrivava il risponso per cui il desiderio di averlo a casa era fortissimo il 24 febbraio era un lunedì io ho deciso di andare in un paese vicino a lecco dove c'è la scala santa una scala santa cui io sono tanto affezionata perché era un luogo dove andavo da bambina anche con mia mamma e sono andata a chiedere alla madonna che lo liberasse subito non sapendo che lui era già stato liberato e che stava venendo a casa perché voleva farmi una sorpresa per cui a casa mia lo sapevano tutti non lo sapevo soltanto io e quando sono tornata a casa dopo dieci minuti per dire come la madonna risponde anche veramente prima che domandiamo lui è arrivato proprio a casa e sapevo che era arrivato per tornare per tornare per sempre non c'erano più permessi non c'era più problema di andare e tornare c'era la libertà di vivere di tornare di tornare a vivere lei è emozionante quando parla lo sa giudita si lo sa lei lo sa perfettamente 29 marzo del 2014 fotografie si sposano e quindi qui inizia un percorso di vita insieme inizia questo 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 regalo che arriva nelle vostre esistenze e che rende da quel momento in poi tutto possibile suo merito e lo vediamo ovviamente lanciato per aria dal come si fa con gli sposi no che sono vittime diciamolo tra virgolette di di tutte di tutto ciò che gli amici vogliono regalare come grande felicità e non ho usato questa parola a caso pietro sa di aver ricostruito la propria esistenza ha mai chiesto scusa alle persone che hanno sofferto a causa sua allora è difficile per tutta una serie di questioni legate alla vita che lui faceva prima del carcere e anche a cosa è successo durante il suo delitto prima è anche prima è tutta la strada che ha portato sicuramente aver finito di scontare la pena agli occhi del mondo non toglie il dolore di quel che lui ha fatto e questo se lo porterà dietro per sempre però si è avvicinato tanto alla fede anche lui si questo perché anche perché non seguire una donna come lei è difficile non solo perché la moglie ma proprio perché insomma ben determinata sì in realtà lui è cresciuto con la fede come tutti fino ai sacramenti poi dio ha iniziato a sentirsi a sentirlo come qualcosa di lontano però senza mai negarlo semplicemente c'era altro da fare durante le giornate il fatto di essere finito in carcere di aver dovuto fermare quella vita anche molto frenetica che lui viveva prima dell'arresto l'ha costretto anche a riscoprire che cosa valeva davvero in quelle meravigliose lettere che lui mi ha mandato soprattutto nelle prime in cui lui mi ha raccontato tutta la sua storia senza veli proprio rendendovi partecipe di tutto quello che era successo fino all'arresto era anche evidente che con questa nuova vita aveva finalmente avuto la possibilità invece di riscoprire la realtà che cosa vale davvero allora ne tanto per riscoprire cosa vale davvero giuditte pietro che non hanno figli naturali ospitano da due anni in casa un ragazzo albanese uscito da una comunità per minori perché il bene è una spirale come il male e quando inizia a camminare però il bene non lo ferma più nessuno questo ragazzo vive con voi e ormai da due anni e è veramente come un figlio nel senso che noi abbiamo incontrato un bisogno lui come tantissimi stranieri in italia ospitato fino ai 18 anni compie 18 anni il giorno dopo fuori perché non è minorenne e ha trovato noi lo conoscevamo per cui sono passati alcuni mesi e li abbiamo aperto la porta di casa proprio dicendogli non ti stiamo offrendo una camera in affitto ma di diventare un figlio fate voi che tipo di applauso meriti questa donna giuditta grazie grazie di essere stata con noi buona vita meritate davvero ci fermiamo solo per un attimo finestre spalancate anche se fa freddo arriva l'osolari